I finanziari del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emesse dal GIP, del Tribunale e del Capoluogo, nei confronti di due imprenditori di Montelepre, noti costruttori edili appartenenti allo stesso nucleo familiare, indiziati dai reati di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale attraverso operazioni macroscopicamente rilevanti e sospette, consistita nella stragrande maggioranza dei casi nell'esecuzione di bonifici e prelevamenti di contanti dai conti aziendali per fini esclusivamente personali. I due imprenditori avrebbero distratto oltre 1,3 milioni di euro. Le società avrebbero maturato inoltre un debito nei confronti dello Stato di circa 7 milioni di euro. La scoperta è stata fatta nonostante l'assenza di bilanci e della documentazione fiscale che veniva occultata per ostacolare la ricostruzione delle operazioni bancarie effettuate. Per i due indiziati è scazzato dunque il divieto di dimora nei comuni di Montelepre-Giardinello, il divieto di esercizio e dell'attività imprenditoriale e di rivestire carica all'interno di enti societari. Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 8 milioni di euro.